Ciao, creatura. Io sono Vecati Splendente e benvenuta, bentornata, nel regno di... cosa è? A-S-M-A. Nuovissimo try on all del mercato, ovviamente, creatura. Anche oggi piove, piove sempre qua, non so, comunque, questa giornata di mercato però, questo video lo sto registrando un mercoledì, il giorno dopo. Il martedì del mercato per questa volta c'è stato il sole, 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 caldo, 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 sole, 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 yeah. Infatti ho acquistato la qualunque, sono tornata a casa con lo saino che stava per esplodere. Ho fatto anche un sacco di video, perché appunto ci sarà proprio il... dimostro che mi provo le cose e anche le bancarelle. Cioè, sono una bancarella dove non ho registrato, perché c'era troppa gente e quindi, niente, non sono uscita. Allora, iniziamo subito, iniziamo subito, sto guardando qui, andiamo sempre in ordine cronologico con l'acquisto, con l'acquisto di quella bancarella che ho incontrato prima. Ma anche se in realtà, una cosa, due cose le ho prese in una bancarella che avevo visto a inizio, percorso, diciamo. E però dopo il periodo ho detto, ma sì, se dopo turno c'è ancora, la compro. Io a volte faccio così. Altre volte invece, quando sono subito decisa ad acquistare una cosa, pensando che, oh mio Dio, ce n'è una sola e devo averla subito, la prendo. Invece questi capi ce n'erano tanti, che poi dopo quando sono da io ce n'erano veramente pochi. Però, sono uscita appunto a comprare, spoiler, come prima acquisto, dimostro questo paio di pantaloni che appena ho visto, ho detto, un euro devo comprarli, per forza. E tra l'altro sono, mi stanno, spoiler, mi stanno perfetti. E poi mi sono accorto che in realtà, lì nel video li vedrai con un risvoltino, ma in realtà non è cucito, cioè, sono pinocchietti alla fine. Però ti puoi anche tirar su quanto li vuoi, insomma, puoi fare il risvoltino. Anche perché i pinocchietti non mi piacciono tanto, onestamente. Però volendo uno li può anche tagliare, oppure fare il risvoltino e ciao. Allora i pantaloni in questione sono questi. EMP o EMP dipende come lo vuoi pronunciare, è quel sito dove hanno tutte le cose metal, che una volta si chiamava Negative, adesso c'è EMP, che è mega costoso, dal quale non compro mai nulla, perché le cose costano troppo. E mi piace perché, appunto, ci sono dei dettagli, come tutti i bottoni che ci sono. Sono a forma di corna, così no, metallare. E poi hanno delle fibiette. E sono anche fatti strani, sembra che ci sia un pantalone dentro un altro. Dietro sono fatti così, hanno anche lì dei dettagli. Sì, qua l'ho fatto proprio direttamente dalla bancarella, qui avevano i risvoltini e, appunto, hanno i bottoni e i cosi... Un euro, insomma, pagati un euro, non potevo lasciarli lì. E mi piace, appunto, come sono fatti. L'unica cosa, l'unica pecca, diciamo, è che sono veramente pesanti. E quindi, come pantalone estivo, magari anche no, magari più primaverile o fine estate. Perché, appunto, sono proprio di un tessuto pesante, resistente. Ma pesante. E se io ho così tanto caldo da mettermi i pantaloni corti, voglio un tessuto leggero. Però un euro non potevo lasciarli lì. E vediamo il video dove le ho indossate, dove se ho... Verranno fatti 13.000 dei pantaloncini che vedrai dopo. Eh, no, non è questo. Eccoli qua. Sì, effettivamente, mi stanno perfetti. Belli, mi piace, non mi sono fatti. E vediamo se ho mostrato come sono fatti da vicino. Eccomi qua, con la mia faccia. Mi piacciono queste fibriette. Poi hanno, appunto, questo dettaglio. In tutti i bottoni che ci sono, c'è quel dettaglio lì. Poi dietro sono fatti così. E anche lì il bottone. E poi c'è un pezzo lì, tipo di cuoio, con il simbolo, appunto. Delle corna. Ma tutti questi dettagli che mi piacciono molto. Quindi sicuramente li porterò. E anche lì, sa che te ho un altro bottone? Sul taschino dietro. Hanno tutti questi dettagli. Bello, belli un euro. Non potevo lasciarli lì. Do cosa ne pensi, creatura? Eh, direi proprio che non potevo assolutamente lasciarli lì. Ripeto, per la centesima volta. Sono troppo fatti bene. Sicuramente sul sito costano. Perché lì anche solo una spilla costa. Sì, diciamo che l'unica pecca è che sono proprio di un materiale pesante. E quindi, per una cosa estiva, cioè, io vedo i pantaloni corti e anche i pinocchietti come cosa estiva. E quindi non andrei a crearla con un tessuto pesante da jeans invernale. Però, MP è tutto particolare. Probabilmente era progettato per essere indossato, non solo in estate, non lo so, per le persone più temerarie che vogliono scoprire le... Oppure quegli stivali, no? Che sono alti e quei pinocchietti ci sta. Non lo so. Anche in inverno. Non lo so. Ho ripreso a random, c'erano questi sandalini a 3 euro. Però, visto che erano tipo... Io, infatti, solo l'indosso, però ho anche da regalare. Solo che era un meet in China, non lo so. A 3 euro avevo trovato le di Fonseca e quindi mi fa strano dopo a 3 euro prendere la roba cinese, no? Sono diventata super delit. Poi sono andata subito, subito, verso i calzini perché, se ti ricordi, avevo bisogno di calzini e l'ultimo martedì al quale sono stato al mercato non aveva neanche la bancarella con i calzini. Distrutta da questa notizia, no? Scherzo. Comunque, praticamente, io questo martedì qua sono stato al mercato principalmente per i calzini, anche se poi ho comprato il mondo. Ma mi sono tolta, diciamo, la voglia dei calzini, che non era una voglia ma era un bisogno perché mi sono rotti tutti. E quindi qua c'era questa fantastica offerta che adesso ti mostro. 12 paio a 5 euro, quindi li ho presi, non c'erano di altri colori, quelli da uomo, c'erano solo neri. E quindi, non stavo scherzando, ma mi sono proprio presa 12 paio a 5 euro, ora qua andrò avanti per sempre. Sono 95% cottone, quindi sono stato anche a guardare, tra l'altro sono prodotti a Roma, quindi sono anche italiani. Max calze uomo, perché ho il 41 di piede e quindi le taglie da donna arrivano fino al 40 e quindi mi sono piccole. Allora mi devo prendere questi che sono 40-46. Se ti ricordi, nella scorsa puntata, diciamo, avevo acquistato i calzini per mio papà e per me no, mi ero dimenticata. O in quella prima ancora, non mi ricordo. Comunque, li ha visti e ha detto, eh, facciamo a metà. Ma porca miseria, volevo dire, inizio pera. Ma tu li hai ancora con i nuovi, non li hai neanche aperti, perché ti devi prendere i miei. Cioè, me li sono presi apposta per me, poi sono tutti uguali, quindi se no dopo va a finire che se le frega tutte lui, no? Perché ci sono mie, sono mie. E allora, cioè, a lui li ho presi apposta, colorate, con le righette, così le distinguiamo. E io queste le ho prese perché adesso aprirò altre paia. Le altre le voglio mettere via e man mano che queste mi si rovinano, mi si rompono, le cambio, capito? E quindi, non le ho prese perché dovevo dividerle con lui, dato che a lui le erano già state comprate. E lui invece di usarsi le sue nuove comprate, vuole usarsi le mie. Perché, cioè, questa cosa avevo capita, però comunque, gli ho detto pure, quando mi hanno detto facciamo a metà, io pure, gli ho detto. E quindi andrò a utilizzarle. Adesso le nascondo le altre, intanto mi utilizzo queste perché io sono rimasta senza. Lui ha le sue, più quelle nuove, che non ha neanche aperto. Che se non le ha aperte vuol dire che non ne aveva bisogno, me le ha fatte comprare così perché gli avevo detto io che ne avevo bisogno. E quindi gli è venuto in mente, ah, sì, compramele anche a me. Poi le ho comprate per lui perché quel giorno ero molto presa dal mi compri questo, mi compri quello, mi compri quello. Perché ogni volta che vado al mercato, adesso non dirò più a nessuno, andrò al mercato senza dirlo a nessuno. Perché ogni volta che vado al mercato, persona X mi compri quello, persona Z mi compri quello. E alla fine devo ricordarmi tutte le robe, cioè per tutto il tempo a cercare robe per gli altri. E per me non compro più niente. E quindi infatti quel giorno là mi ero dimenticata, mi ero dimenticata i calzini per me. E stavolta che me li sono presi, me li vogliono anche fregare. No caro, no, queste sono le mie, mi dispiace. Anche perché se no dopo sono tutte uguali, si fa confusione durante la... E quindi niente, questi li nasconderò da qualche parte in camera mia. E li userò con parsimonia, mi dureranno anni. Ma è vero. Logicamente non ho il trai di questi calzini, ma comunque mi vanno perché sono standard. E sono belli perché hanno tipo... Una sorta di risvoltino. Non hanno l'elastico in sé. Quindi sono particolari, mi piacciono. Spero non si facciano su quando cammino. Però a quella, con quell'offerta lì, erano gli unici, non c'erano altri da uomo. Non potevo scegliere, insomma, 12 paia, ti beccavi quello che c'era e mi va benissimo. Perché comunque è un prezzo buonissimo, ho fatto proprio la scorta. Sembra che se nessuno me li frega. Vabbè. Farò in modo che nessuno me li freghi. A meno che non me li frega una volta che li stendo lavati. Non è una lì. Vabbè. Erano fuori delle insurrezioni. Poi. Qui cosa c'era? Vediamo. A due euro. Ah, questa è la solita bancarella a due euro. dove acquisto le maglie di marca. E mio papà ovviamente il mattino mi ha scritto mi compri quelle due magliette, una maglietta, voleva una maglietta di marca che gliel'ho già presa a flotte in ogni video. E anche stavolta gliel'ho presa perché appunto quando una persona mi scrive e mi prende quello mi dispiace se non la trovo, ok? Ma se trovo qualcosa mi dispiace e non prendo, glielo di la bugia non l'ho trovata, ok? Perciò le ho comprato due magliette di marca e mi sono tutte le cuffie, mi si sono tutte arricciate i capelli. Scontrino. Allora, lì ci sono sempre cose di marca, purtroppo questa volta non ho trovato nulla per me perché avrei voluto un'altra t-shirt di marca tipo, non so, Levis, per dire, in quella bancarella da due euro. Però ho trovato queste due t-shirt per mio papà. tra l'altro una, insomma... Armani jeans, due euro. Potevo lasciarla lì. Tra l'altro è anche XXL. È semplice. Lì per lei ci sono rimasta un po' a caso. Ho detto, hm, non è che ho preso un pigiama. Invece poi ho guardato in internet e vanno anche questa tipologia di maglia o come t-shirt da uscire un po' fighetta, noi diremmo, no? Quei bottoncini. che lì per lei mi sembrava un pigiama però è Armani jeans. E praticamente è semplice come se fosse una semplice t-shirt con i bottoncini blu. L'unica cosa è che qui ha la scritta AJ Armani jeans ed è Armani jeans la differenza con una classica t-shirt blu a 2 euro è che è una t-shirt classica blu Armani jeans a 2 euro ecco questa è la differenza quindi diciamo che è vestito semplice però comunque se uno ha occhio intravede la scritta dice ah però capito e poi queste qui di marca sono sempre 100% cotone quindi sono sempre li prendo anche perché sono sempre sicura che indossa un materiale che per l'estate va bene che non fa sudare cioè sudi lo stesso però non è di plastica o di poliestere come altri altri marchi ecco e per 2 euro anzi in realtà c'era una bancarella con delle t-shirt scrause a 3 euro e quindi ho detto cavolo ho presa 2 euro di Armani cioè e quelle scrause venivano 3 euro senza marca e di poliestere quindi voglio dire no ecco penso che tu abbia capito il mio ragionamento diciamo che nella sua semplicità però ha un tocco che se uno c'ha occhio vede no come si va è sbagliato va bene ho preso una colorata anche questa marca ci sono molti t-shirt di questa marca in quella bancarella lì credo che sia tutto un magazzino perché di Armani Jeans avevo trovato altre maglie le scorse volte ma erano tutte L troppo piccole per mio papà e anche perché lui le preferisce oversize piuttosto che giusta che sia dilata e questa è Jack Jones original bla 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 ed è fatta così sembra 2 euro questa dovrebbe essere una XL ecco XL si però veste molto larga grande bella anche questa 100% cottone motivo appunto principale per cui quello da parte che è Nohark dopo però sono attaccato c'era anche un maglione di c'era un sacco di cose anche invernali ho visto c'era un maglione di moschino originale ma era uscino ho detto me lo prendo 2 euro poi ho detto ti lo metti no perché era uscino c'era la scritta moschino in grande era nero con la scritta moschino in grande bianca non l'ho ripreso perché finché ho le mani impegnate avevo già le mani impegnate una mano impegnata a tenere le due t-shirt con l'altra cercavo di guardare rumare come dico io in diretto veneto di cercare tra il mucchio di abiti di vestiti e quindi tutto con cosa filmo è il brutto tra virgolette di essere solo al mercato se devi fare dei video è quello ma chissene cioè basta il secondo piano meglio stare da soli se hai visto quel video sai già sai già tutto di quello di ciò che ti voglio dire quello che sto parlando e c'ho anche telefono scarico mi devo spiegare quindi cosa volevo dire non lo so comunque ottimo acquisto fammi sapere se è un pigiama se è un pigiama a pazienza lo metterà in casa poi ho visto queste borsettine super carine a due euro e dato che mia zia ha compiuto gli anni ho detto me quasi le compro una borsetta di solito non ci facciamo gli anni di auguri nel regalo di compleanno lei non me lo fa mai mai fatto tutta la mia vita e però adesso che ho che vado al mercato da sola che posso comunque permettermi di prendere qualcosina ho detto con due euro faccio anche bella figura tanto a me io faccio i regali perché mi piace fare i regali non perché voglio riceverli in cambio quindi non mi interessa se questa persona non me li ha mai fatti se io mi sento di prendere qualcosina lo faccio anche perché lei non va mai al mercato a Rovigo non ha idea di come sia e e secondo me faceva anche bella figura cioè uno non si immagina a meno che non guardi i miei video ma nessuno della mia famiglia li guarda tranne un'altra zia che però è un caso speciale diciamo però perché è una cucina di mia mamma insomma e a parte lei ciao zia se mi stiamo guardando che mi scrive anche su Instagram ma a parte lei non ho nessun altro della mia famiglia che o che sa che faccio video o che li guarda quindi mi sembrava insomma una rubina carina ero molto indecisa perché c'erano appunto due modelli all'inizio ero indecisa sul colore poi ho optato per il nero perché si abbina a tutto è più facile da abbinare agli abiti e poi spesso le si veste di nero quindi ci sta giacca nera secondo me è più infernale che estiva questa borsa perché è morbida adesso te la mostro ed è un tessuto più infernale secondo me poi è sembra tipo tra puntata ecco però dato che i mesi invernali sono di più alla fine c'è più freddo che caldo l'estate sono quei tre mesi lì invece primavera non è che ci sia quel gran caldo quindi la puoi usare di più autunno inverno ecco è primavera e perché da noi primavera anche in quest'anno non è che ci sia stato caldissimo e quindi ho optato per prendere appunto questa qui nera c'erano due modelli uno ho fatto tipo a busta e l'altro ho fatto quello che ho comprato che aveva quella a busta aveva solo la tracolla invece quello che ho gustato io aveva sia la catenella da tenere a mano e sia la tracolla all'interno della borsa quindi l'ho presa come ho scelto quella mi sembra quella più fashion sacchettino di plastica farà un macello di rumore adesso lo estraggo taglio la parte ovviamente questa qui è la borsettina in questione e anche la plastica sulla cioè per 2 euro voglio dire anche confezionata bene ha anche il suo sacchettino sul manico fatto di catena è una catena è plastica perché è leggera meglio perché altrimenti col sole se vuoi usarla subito non si ustiona se fosse davvero di ferro penso che di ferro si rovini anche se invece si bagna non succede niente perché è di plastica all'interno c'è anche la sua tracollina nera ovviamente sono un uomo avevano il cartellino se c'era nera blu azzurra c'è scritto bianco ma non c'era bianca rosa e gialla però sai avrei voluto forse prendere la rosa non decisa tra rosa e nera però ho detto rosa comunque sarà bina difficile no anche perché non conosco ancora bene i suoi gusti quindi quando non conosci lo stile e i gusti di una persona è difficile fare regali però è più facile fare regali alle donne perché sono più tra i due devanitose nel senso che le prendi una borsa le prendi un foulard l'ultima volta l'ha preso il foulard le ho preso tantissimo ho scoperto che tra l'altro fa anni ne ho tantissimi di foulard io mi mancava proprio questo colore mi ha detto per fortuna perché non sapevo ne avesse così tanti ecco e mi è andata bene quindi ho detto questa volta non me la rischio prendo una cosa bianca e nera che magari è più abbinabile è più sobria è più rischio meno ecco così almeno la usa perché insomma spero che le piace perché è uno stile un po' particolare però ho visto che tutte andavano a comprarle e andavano di moda queste borse lì al mercato c'erano anche le altre sono già tre martedì che le trovo quindi ho visto che le donne si hanno fatto proprio le hanno comprate un sacco ecco ho visto anche delle ragazze acquistarle quindi non so bene in che faccia è di età metterle poi dopo bisogna anche vedere come le abbini si è tutto anche io ho della roba da vecchia magari però se me la metto io in un certo modo è figo cioè tipo i maglioni da nonno quando sono fashion certo vabbè qui abbiamo fatto un c'erano sandalini e ciabattina a 6 euro voglio farti vedere un po' lo stile che gira qua da noi a me non piacciono onestamente però per 6 euro magari a mia mamma a mia mamma si si era presa un paio di sandalini tempo fa in questa mancarella 6 euro e sono molto carini quando mi sono avvicinata perché c'era il tizio mi stava già guardando malissimo avevo già 100 scuse per per le motivazioni del video ci penso manca il video della mancarella da 50 centesimi perché quando sono arrivata era presa d'assalto erano tutte intorno come se fossero tipo mosche che fosse caduto qualcosa oppure anche quando ci sono le formiche che sono tutte ammassate una sopra l'altra come se fosse caduta una bricciola e tutte le formiche fossero andate lì tutte insieme non si riuscì c'è dove ho avuto scomitare per guardare è la solita mancarella quella dove c'è la tradizione sai la solita camicia da 50 centesimi secondo te l'ho presa stavolta già lo sai l'ho presa allora mi ha tirato molto il tessuto perché sembra un mi ricorda un lenzuolo una federa non lo so qualcosa di cottagecore comunque perché ha i fiori e se hanno i fiori io li compro lo sai è bellissimo ha color pastello e soprattutto penso che sia una camicia fatta a mano da qualche sarta perché non ha un'etichetta nemmeno è stata tagliata nemmeno c'è proprio non c'era la taglia infatti l'ho presa penso l'ho provata col solito stile si moriva dal caldo quindi non avevo nessuna intenzione di togliermi lo zaino e provarla effettivamente comunque c'è il video dove la provo e mi sta giusta perfetta quindi ha dei dettagli fotonici per questo anche l'ho presa perché sicuramente è fatta a mano da una sarta che non lo so l'aveva fatta per qualche vecchia secondo me perché è uno stile troppo retro praticamente ha i bottoni tipo tipo non credo siano di madreperla però diciamo tipo madreperla credo siano di plastica questi ma va bene lo stesso va bene lo stesso non è un problema e praticamente non so se riesco a spiegarti qui vedi che c'è il buco per il bottone però c'è un pezzo di stoffa sopra ciò significa che tu vai a infilare il bottone nel buco e poi la stoffa copre non si vede il bottone però non è fatto così è fatto così fino a un certo punto e poi dopo è una camicia normale quindi secondo me è qualche stile che non sappiamo magari di una volta e in più ha gli spacchetti comunque l'avrai visto lo farò vedere ecco nel video dove lo indosso quindi ha tutte queste cose che sembrano proprio una roba vintage una volta fatta a mano ho detto posso lasciarlo lì 50 centesimi direi anche di no e quindi l'ho presa e devo solo capire come abbinarla vorrei però non vorrei sembrare una pazza ho una gonna nera e vado sull'elassico vabbè il solito jeans nero ci sta oppure ho quella gonna argentata però non è cottagecore devo trovare qualche gonna cottagecore da opinarci non ci sto vedendo di niente da un occhio e devo mettermi un po' di collirio ma adesso no e e quindi consigliami qualche stile tipo cottagecore che ci starebbe bene e dopo io lo cercherò al prossimo mercato perché ho già deciso che ci vado anche martedì prossimo quindi cioè già proprio poi già che c'ero a 50 centesimi ho preso un regalo per mia sorella perché le ho fatto anche un altro regalo che non vedrai e però volevo integrare con queste cosine ecco del mercato e e ho preso sempre a 50 centesimi una una camicia però un vestito molto anni 90 che lei lo stile anni 90 è rimasto nel cuore si veste sempre anni 90 cioè spesso diciamo le piace ecco e lo vedrai meglio nel video perché ho fatto un video dove si vede bene e appunto non so che marca sia credo sia sì una cosa cinese però c'è scritto 100% cotone quindi ok cinese però di qualità un po' insomma non sudame come si dice questo vestito nero che in realtà è una camicia sfiancata è molto anni 90 non so cosa dirti appena l'ho visto penso dagli anni 90 ha queste vipiette alato è una taglia M quindi magari a lei le sta oversize perché credo abbia la X size io sono là però anni 90 ci sta un po' più largo no? che comunque essendo una M è comunque stretta perché sfiancatina ed è proprio fatto abito secondo me le starebbe le starà bene a un euro ho trovato una maglia per me finalmente un'altra t-shirt da mettere in estate così in spensieratezza perché poi ho indossato quella levis ah sì l'hai vista nei video dove mi provo le cose avevo la maglia levis quella blu da 2 euro e stavolta l'ho trovata un euro in un'altra bancarella proprio tranquilluna è tipo sembra tipo un stile militare del deserto non lo so questa è una taglia M tra l'altro la taglia S che ho preso nell'altra bancarella è più grande di questa taglia M quindi non ho ben capito queste taglie come vadano comunque tra l'altro io ho dei pantaloni cargo e sul marroncino così secondo me sarebbero da dio e anche con questa maglia che mi sta giusta quindi non è è attellata ma giusta insomma non è oversize ancora non è oversize e però comunque vabbè l'ho presa principalmente perché i colori chiari non ho maglie chiare e quindi questa è contestualizzata nella mia testa perché comunque è chiara ma è levis quindi va bene va bene non so perché nella mia testa va bene perché comunque è un colore che non è che mi piace tantissimo però quando me la sono provata sento proprio la freschezza un euro cioè stesso discorso una qualsiasi maglia di color cacchetta un euro stessa maglia di color cacchetta levis meglio levis ecco la stessa bancherella ha un euro sempre ho preso questo crop top per mia sorella che a lei piace piacciono i crop top in generale ma soprattutto va anche a correre insomma è una tipa sportiva di franzania e di me vabbè e a me a correre proprio mi fa schifo non lo farei neanche se mi venisse non so se venisse attaccata da un leone o da uno zombie che per me sono un po' la stessa cosa perché qua ha la stessa probabilità di incontrare un leone no forse quell'altra volta era scappato l'elefante effettivamente era venuto il circo ed era scappato l'elefante me lo sono trovata lì nella via di casa e ho fatto trovo ridere vabbè uno zombie diciamo se mi attacca uno zombie io non so se ho voglia di correre te lo dico creatore quindi tutta questa premessa per dirti che ho preso questo crop top della Nike originale a un euro è un colore tipo un rosa a cibria che è molto molto chiaro molto molto pastello è carino comunque ci sta agroppato è una taglia S una taglia S originale Nike un euro ci sta insomma se anche non le piace se anche non lo vuoi mettere per andare a far ginnastica la tiene in casa insomma c'è sempre stoffa ecco non ho fatto suoni in questo video tanto ci sta già pensando il vicino e l'ultima bancarella c'erano le cose un euro un euro non si cambia e ho preso questi pantaloncini che mi sono dopo provandoli mi sono accorta che avevano te la virgolette un difetto anche se non era la bancarella dei difetti ma vabbè sono stata io poco attenta diciamo che ce ne erano due li volevo proprio di quel colore lì ce ne erano due uno però era tipo macchiato come di ruggine e sul bianco secondo me è difficilissimo da far andare via allora ho preso l'altro e non avevo notato che mancava una come si chiama una nappina si chiama una nappina e ho voluto acquistarli uno per me uno per mia mamma c'era taglia S le taglia L io ho preso la L mi sta giusta come vedi nel video l'unica cosa che mi sono accorta è che manca la nappina rosa però effettivamente chi se ne frega perché le ho presi per stare in casa se proprio mi triggera male questo sbilanciamento di una nappina posso togliere quella di la rosa e se il gioco è fatto insomma sono troppo carini un euro sono 100% cotone c'erano anche bianchi azzurri e allora ho preso quelli bianchi rosa e li vedrai nel video sicuramente che ho fatto sono tutti specchietti sono tutti cioè sono strani non potevo lasciarli lì e appunto li posso mettere anche solo in casa come pigiama sopile sopile ed elegante no però vabbè e basta penso che questo sia stato l'ultimo acquisto si qua indosso le cose così insomma come al solito come al solito fammi sapere cosa ti è piaciuto di più tra i miei acquisti se anche tu avresti acquistato queste cose oppure no e come sempre spero che di averti fatta rilassare e grazie per essere stata in mia compagnia e aver trascorso questi minuti insieme questa serata insieme creatura grazie per avermi scelto insomma per aver scelto il regno di Corraì questa sera anche se poi potrai guardare altri 4.000 video di altri canali però io sono stata scelta quindi da te quindi grazie come sempre ti auguro una notte un relax ciao creatura